Il consigliere ha ritenuto doveroso andare a parlare col commissario generale dell'ASL, provincia di Lecce, per la situazione sanitaria. Quali sono stati le sue richieste? Sì, è una situazione che diventa insostenibile. Io scorsa settimana ho denunciato una vicenda avvenuta del portosoccorso di Copertino, ma potrei ogni giorno denunciare varie sollecitazioni che vengono dal territorio, perché purtroppo i pronti soccorso non riescono più a garantire il loro primo soccorso, perché sono strapieni. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di risolvere il problema. Ho messo le mie persone a disposizione, in quanto credo che le istituzioni in questo caso devono far sentire la propria voce per il territorio. È fondamentale riuscire a mettere insieme le forze per risolvere un problema annoso che ci portiamo avanti da anni.